Per mobile payment con la tecnologia NFC è sufficiente avere già un POS contactless abilitato. Molti dei POS già in dotazione per accettare le carte di pagamento stanno diventando contactless nativamente, ossia entro il 2017 i circuiti obbligheranno i fornitori di questi strumenti a dotare questi strumenti già con la tecnologia contactless, quindi un esercente non si accorgerà neanche e avrà già un POS che permette di accettare questa tecnologia. Avere un POS costa all'incirca tra i 15 e i 20 euro al mese, quindi è un costo aggiuntivo per il mondo degli esercenti. Attualmente l'utilizzo del mobile payment è ancora piuttosto limitato, ossia nel 2013 sono stati transati all'incirca un miliardo di euro attraverso il telefono cellulare per acquistare bene i servizi, soprattutto a distanza nelle modalità mobile commerce. Un miliardo rispetto ai oltre 650 miliardi di consumi in punto vendita degli italiani, stiamo dicendo ancora pochissimo. L'elemento però dirompente è che si crede che nei prossimi due o tre anni dal miliardo si passerà brevemente a anche 5, 6, 7 miliardi attraverso questa tecnologia, perché sappiamo che gli italiani sono poco propensi all'utilizzo dei pagamenti elettronici, ma sono molto propensi all'utilizzo del telefono cellulare. Quindi gli italiani tendenzialmente sono tra i paesi, l'Italia è tra i paesi dove c'è la maggior diffusione degli smartphone. Quindi sicuramente il mobile potrà avvicinare gli italiani all'utilizzo dei pagamenti elettronici, quindi si prevede che nel giro di tre anni dall'un miliardo si arriverà fino a 7-8 miliardi di euro transati con il mobile payment.